e soprattutto buon trascorso Natale, è la prima del convegno, discreti tre anni sul miglio, otto in prima, sei in seconda, sono in quattordici agli ordini dello starter. Tartuffo bianco, Giabella non è sgambatura, il più giocato al totalizzatore. Intanto, bel risalto, Napoletano ieri a Capannelle, VP dell'Annunziato con oro pure bar alla grande, Vincenzo D'Alessandro Junior con il suo outsider quarto sul paleo e anche il fotografo con running al mare all'ultima. Insomma, di galoppo Thelma Deimare va via la macchina in velocità e a largo di tutti Tiara Caff si impone nei confronti di Tindari B che parcheggia, poi Taiga Jet lungo i birilli, con cautela il favorito Tartuffo. Il lancio se ne va in quattordici e uno e siamo al completamento della piegata, sposta a Tindari B con Giorgio D'Alessandro Senior, anticipa l'idea del Tartuffo, chiede strada e lo sta ottenendo. Quattrocento in trenta e quattro e il Tartuffo ora punta in avanti e Tartuffo Bianco si presenta deciso su Tindari B. Si va dopo 600, i 600 iniziali nell'ordine del 44 e 4, si viaggia da 1 e 14, risponde Picche il Caterpillar con il suo targato B. Si deve adeguare così Tartuffo Bianco al Salchi di Tindari B, una figlia di Echinocs B. Mezzo milio in 59 e 9 viene via bene Temibile Ok che ha preso la scia del Tartuffo. Ci sono formate più pariglie con Temibile nella scia di Tartuffo viene via anche Torquato Black, chilometro chiuso in 15 e 2, 15 e 3 di frazione, si fa notare anche Tacco la jet ma trova traffico, sta passando il Tartuffo di forza in leggero vantaggio ma viene via di nome di fatto il Temibile, è Temibile Ok vai sul 2 di testa, si lotta a oltranza, 15 e 2, 34 e 3 quarti di miglio, temibile a largo di Tartuffo, si va al completamento della stessa, poi Tiora Caff in cerca di un Varco, passa a largo Temibile Ok, si ingamba anche Tiara, cerca di rientrare il Tartuffo ma passa di forza, infine questo Temibile di nome di fatto, ok, un ottimo Tartuffo Bianco che gli è venuto malissimo e terzo Tiara Caff, 2 minuti e un po' di spiccioli, 1, 15 e 4, temibile 7 euro al totalizzatore e GP Maisto Insarchi inizia questa domenica l'ippodromo di Agnano con una delle sue guidate ma da circoletto Arcobalena la prova di Tartuffo Bianco che ha girato sempre a largo, migliorata questa Tiara Caff, i numeri 4, 5, 7, il temibile lui, Blue 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 Jeans, linea allo studio